Inzaghi, pancia piena? I ricordi non portano punti. Inzaghi parla dei successi passati e dell'importanza del presente. In un'intervista recente, l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, ha sottolineato quanto sia importante concentrarsi sulle sfide attuali, piuttosto che fare affidamento sui trionfi passati. Inzaghi ha fatto notare che, sebbene i ricordi siano preziosi, non contribuiscono a guadagnare punti nelle competizioni in corso. Secondo lui, una concentrazione eccessiva sui successi precedenti potrebbe influenzare negativamente lo spirito di squadra e la motivazione dei giocatori. L'allenatore ha anche parlato dei preparativi intensi per le prossime partite di Serie A e della Champions League. Er betonte, dass es für seine Mannschaft entscheidend sei, eine kontinuierliche Leistung zu zeigen und sich nicht auf den Lorbeeren der Vergangenheit auszuruhen. Inzaghi erklärte, dass jedes Spiel eine neue Herausforderung darstelle, die mit vollem Einsatz angegangen werden müsse. Dies sei besonders wichtig, da die Konkurrenz in beiden Wettbewerben sehr stark sei. Inzaghi wies auf die Tatsache hin, dass das Team in den vergangenen Saisonspielen eine gute Form gezeigt habe. Jedeste Übersetzung auf Italienisch ha sottolineato che per la sua squadra è fondamentale mostrare una prestazione continua e non adagiarsi sugli allori del passato. Inzaghi ha spiegato che ogni partita rappresenta una nuova sfida da affrontare con il massimo impegno. Questo è particolarmente importante, poiché la concorrenza in entrambi i competizioni è molto forte. Inzaghi ha fatto notare che la squadra ha mostrato una buona forma nelle ultime partite di campionato. E in altro punto su cui Inzaghi ha insistito è stata la necessità di motivare costantemente la squadra. Anche se i giocatori avevano già raggiunto molti successi, è importante mantenere il focus sulle situazioni di gioco attuali. Ha esortato i suoi giocatori a mantenere l'attuale livello di prestazioni e a porsi nuovi obiettivi e ambizioni. Ecco il testo tradotto in italiano. Questa mentalità dovrebbe riflettersi non solo negli allenamenti, ma anche nelle partite. Infine Inzaghi ha sottolineato che è tempo di lasciarsi alle spalle il passato e concentrarsi sulle sfide future. Ha incoraggiato i suoi giocatori a continuare a evolversi e a sfruttare gli aspetti positivi delle esperienze precedenti, senza però considerarli come un parametro per la situazione attuale. Nur così si può davvero avere successo nelle prossime partite. Autore Anita Fach è sabato 21 settembre 2024.